Ma dove sono? Non vedo niente. Non ricordo niente. Mi fa male la testa, mi viene da vomitare. Ma perché mi hanno legato? Perché mi hanno portato qui? Lì c'è un punto luminoso. Il limbo, quando ero piccolo, me lo sono sempre immaginato così. Tutto immerso nel bianco, come stare in mezzo all'ho fatta. Ma come ci sono arrivato? Mi ci hanno portato qui. O morirò di fame e di sete, o di paura. Ho sempre avuto troppa paura. Paura di tutto. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Voglio capire, ma che senso ha tutto questo? Voglio capire, ma che senso ha tutto questo? Questa fa? Questa è qualcosa di più grande. C'è qualcuno? Tvale c'è qualcuno? Ovander